Ciao a tutti ragazzi, siamo Remy e Molly E Molly sta ridendo E la Remy ha fatto la cacca E' la mia, no non è la mia La Remy è la sua, è la sua si E' la sua Dami, fai vedere la cacca Allora, questa qui è il mio giochino E' il mio giochino E' il mio giochino Perché è la cacca pinta No no è vera, l'ha appena fatta Ma ti pare che la darei in mano così? Che schifo, tiene la cacca in mano Questa ragazzi, oggi ci servirà tanto Per fare degli scherzetti a Molly Nooo, perché oggi Abbiamo portato un nuovo gioco Che secondo me vi piacerà tantissimo Dammi quella cacca Lasciami la tua cacca No che schifo, basta Ma no, questa cacca adesso ci saluta Nooo, perché oggi noi Siamo contro la cacca, guarda Dobbiamo pulire la cacca Dobbiamo pulire la cacca Perché oggi siamo dei bidelli E dobbiamo pulire il bagno più sporco del mondo Ma guarda, sta schizzando fuori dal WC Che schifo No no, un attimo, fammi spiegare Allora, quella povera ragazza Ci sta dicendo aiutaci Vabbè, non te ne frega niente Ci sta dicendo di pulire quella povera ragazza Guarda, c'è scritto Please clean up E questi sono quello che ci sta richiedendo la ragazza Sono le missioni, guarda quei gabinetti Ah, che schifo Ma perché Reby hai fatto la cacca ovunque Ma non sono stata io, comunque guarda Che schifo Allora, la lasciamo qui Ma come fanno tutti quei gabinetti ad essere pieni di cacca? Eh, sono pieni di cacca Guarda, non sai nemmeno dove si deve andare, devo giocare io Perché le persone non hanno pulito Hai visto, cosa stai facendo? Wow, questo è il bagno delle donne, comunque Fammi giocare, dai Cioè, ma le donne hanno fatto un disastro così Le ragazze Oh, hai pulito il gabinetto, vai anche quell'altro Ho pulito il gabinetto, guarda Non lo pulisci Non lo pulisco Vedi che le ragazze fanno un sacco di pupù No, però io non vorrei vedere il bagno degli uomini Eh, perché secondo me è molto peggio Comunque, io vorrei dire una roba Soldi di là, soldi, prendili Upgrade Vediamo La chiave inglese Allora, possiamo Più aspirazione Poi, anche la grandezza e la capacità Tutto abbiamo aumentato Ottimo, vai, vai, vai Ecco il bagno degli uomini Eh, guardate È messo malissimo È messo malissimo Attenzione Attenzione perché qua si serviranno tantissime Comunque, vogliamo dire che si torna Ma tre volte alla base e poi gioca l'altro Eh, ma l'hai detto adesso quindi No, 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 no Terza volta, terza volta Dai, erabbi caccona Devi andare a prendere queste cose qua Oh, adesso puoi prendere anche questo Schifo È pieno Ok, quattro allora Io cinque dopo No, cosa stai dicendo? Tre, abbiamo detto tre a testa Eh, ma te sei... eri a quattro adesso Nooo, guarda No, io ne faccio un bel po' dopo Tre, tre a testa Sì, contaci Ecco fatto Svuotato Tocca a te Ah, che bello giocare adesso Sette volte di fila No, tre volte di fila Ok, vediamo le missioni come siamo messi Eh, ancora non ne abbiamo abbastanza Devi pulire, devi pulire Pulisci, pulisci, pulisci Guarda, tu comunque sei andato a pulire la cacca quella più marrone E invece questa qua un po' più di caramello Non l'hai pulita La cacca di caramello Hai pulito un gabinetto, guarda E anche un altro gabinetto Oh, bravo Così si farebbe, vedi Te non sai fare a pulire Guarda che lasci le macchie qua Ma cosa? Che macchie? Sei pieno comunque Non sai fare Allora, soldi Allora, puliamo tutto Svuotiamo Potenziamo Upgrade, vai Allora, io direi la capacità e... La struttura Questo cos'è? La struttura Il raggio Il raggio d'azione Ok, vai Del nostro pulitore di cacca Puliamo tutto, attenzione Ok, di qua se qualcos'altro no È tutto pulito No, devi pulire il bagno, guarda Ok, allora Questo gabinetto possiamo metterlo nuovo? Siiiii Ok, abbiamo pulito tutto Ah, che schifo Cosa hanno mangiato il cioccolato fondente qua Ruby? Ah, ok Hai pulito un altro gabinetto Wow Mamma mia, perchè il water sta continuando a deruttare esatto quindi adesso che cosa succede c'è qualcuno qua attenzione dobbiamo aiutare ah c'è un bidello forse no lui ci può aiutare dobbiamo comparlo ok allora mettiamo su tutto questo adesso tocca a me però perché ma che tocca a te ho giocato due volte hai giocato tre volte e poi quattro volte devo giocare no e comunque torna dal bidello non ci penso neanche a farti giocare dai devi andare a prendere l'altro bidello un attimo devo upgradeare ma dopo non ne so di fare il bidello perché così gioca di più devi andare a prendere l'altro bidello si Rebi basta sei come con le boccine ma guarda ti aiuta lui si penso io free abbiamo svuotato la cacca attenzione pulisci 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 yes mi sa che non è oh vai bidello grande eh ma così giochi di più non vale no se ne è corta ragazzi no no adesso tocca a me un attimo guarda se anche lo shop non si può e comunque non hai pulito bene quelli ecco adesso li pulisco un attimo mamma mia come ti lamenti la chiave la chiave serve la chiave un attimo devo pulire come ti lamenti ti sei solo lamentare si è pulito abbastanza e comunque il bidello te li ha svuotati due volte no sono tornato solo due volte alla base no tocca a me sono tornato solo ho un altro bidello tocca a me si vai ma hai aperto nessuno con la cacca tocca a me non vale hai giocato cinque dopo dopo gioco dopo gioco gioco dieci volte no ma se uno è intelligente scusa ma che intelligente c'era il bidello questa cacca è diventata è di cemento è di cemento la cacca di cemento allora adesso guarda ti faccio vivere un sogno si vediamo ok guarda mille soldi e cosa facciamo? con mille guarda ti potenzio wow guarda ti do più aspirazione che possiamo prendere il cemento ok il raggio vai lo store ok adesso tocca a me dai puoi giocare adesso non te lo ridò più gioco per non so quante volte no no però dobbiamo finire sto livello adesso lo stiamo finendo passando così finisci tutto il livello no 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 guarda la cacca che è diventata non è più cemento sai i vermi la cacca con i vermi che schifo questa è soccolata fondente fusa che schifo il bidello il bidello che ti aiuta il bidello il bidello ma l'avevi già riempito per metà vai vai pulisci pulisci tutto attenzione qua è tutto pulito è quasi tutto pulito oh completato il giorno 1 completato il giorno 1 eh però mi sa che sei ancora cacca ma sei ancora cacca nooo ok non possiamo prendere il 700 andiamo ok oh mamma e adesso no ok nuova scuola no 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 di nuovo hai ruttato abbiamo fatto un disastro ok c'è un boost c'è un boost vediamo gratis più veloce più veloce ho più capacità andiamo no dovevi prendere più capacità velocissimo guarda il bidello il bidello il bidello il bidello è pieno non puoi andare non puoi andare non posso andare dovevi fare capacità lo sapevo eh vabbè non sa giocare quanto me ma non è vero adesso andrò più veloce è inutile andiamo 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 attenzione un bagno pulito ottimo ok perfetto io comunque vorrei andare anche nell'altro bagno perché è comunicante hai visto siamo pieni siamo pieni e non ci passiamo neanche più allora hai visto molli bisogna pulire davanti perché altrimenti quando siamo pieni eh non riusciamo bla 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 va bene ho capito adesso farò un upgrade no basta chiave inglese chiave inglese dopo che torni lì tocca a me ok ok però io adesso passo da qua vai quanta cacca sì ma te non pulisci bene pulisci a caso sì così dopo non riesci a passare la cacaccemento c'è lì eh no è la cacaccemento la cacaccemento ma non è cacaccemento è cacaccemento fidati allora diamo la qui bidello serve guardare la pubblicità basta prima l'hai sprecato non è più gratis il bidello non è più gratis attenzione raccogliamo tutto vai vai butta lì qui ok posso giocare un po' no dai oh basta tocca a me guarda ma che tocca a te da pulire ecco fatto questi due bagni hai visto? vai vai pulisci pulisci tutta pulita bidello non è gratis chiave inglese puliamo tutto cacaccemento non si può prendere pieno sei pieno sei pieno dai dopo questo tocca a me no devo tornare alla base ti prego tocca a me no devo tornare alla base no dai è il mio turno hai giocato 5 volte ma non è vero perché prima tu hai usato il bidello quindi hai giocato quanto me no non è vero sì hai usato il bidello quella al punto esclamato vediamo 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 sì 2000 wow 2000 ok top adesso devi potenziare Rebi attenzione potenziamo puliti altri due gabinetti guarda guarda qua sono stata bravissima guarda un po' tutti puliti mamma mia certo che è un lavoro un pochettino cioè tutta questa cacca sì non è un lavoro molto bello però qualcuno dovrà pur farlo allora puliamo tutto oh siamo pieni adesso tocca a me siamo pieni finalmente il mio turno tra poco però sta piangendo perché adesso devo raccogliere i miei guadagni e adesso faccio anche l'upgrade perché tu prima me l'hai fatto va bene così so di più adesso vai guarda è diventato verde è diventato verde raga nitro pulitore vediamo forza andiamo dove devi andare adesso allora questo cosa ci chiede di fare rimuovi l'80% più questo 90 ok va bene ci siamo quasi ci penso io pulitore cacca 10.000 miua si è sbloccata la cacca cemento miua miua guarda le ragazze quanta cacca hanno fatto la cacca cemento hai sbloccato le ragazze hanno fatto la cacca cemento ma come? si si l'hanno fatto loro l'hanno fatto loro attenzione ragazzi ci siamo quasi abbiamo completato secondo me quasi il secondo giorno forza forza soldi soldi ok vai 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 ancora aspira tutto molli guarda che devi pulire anche il bagno degli uomini forza sicuramente avrò tanti soldini si ancora però non puoi fare la ah si si ok vai vai devi pulire anche il bagno degli uomini ti ricordo oh quanta cacca cemento ecco guarda quanta cacca cementa si può più prendere niente bidello no non è è questa cacca cemento puzzolente cacca cemento ah guarda che schifo senza pieno mamma mia chissà che puzza e la rebi raga comunque fa cos'è raga 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 ragazzi raga a volte mi viene da dir raga va bene comunque la rebi adesso vorrebbe giocare dicevo che la rebi fa la cacca così ma non è vero avete visto prima che si era indurita ma non è vero ma quello è un gioco no quella era vera ma dai ma voi state ascoltare molli e molli fa molli cosa posso giocare no un attimo perché non posso giocare fammi si li ho avuto completato no vai raccogliere i soldi prima del next day brava vedi che quando usi perché prima ne abbiamo lasciati dietro al 700 quando usi il cervellino hai capito? sei brava si bravo l'hai lasciata tu indietro adesso però tocca a me no no l'ultimo io no basta dopo lo fai te ok vai next day no perché? li abbiamo raccolti eh vabbè vediamo un po' dove va stiamo andando wow il camion il camion della cacca vuole rubarsi tutta la cacca no che è successo amico che è successo la cacca verde? la cacca verde ma no ma che cosa è questa roba? che schifo oh mamma e adesso? wow è vomito è vomito togliato indietro no allora è o uno ha mangiato i broccoli ha fatto la cacca verde come i bimbi che mangiano le pappine potrebbe essere vomito no è cacca verde no basta io non ce la faccio più è cacca verde troppa cacca troppa cacca ok basta qua c'è tutta cacca cemento mamma mia cacca cemento allora direi di fare una cosa che se questo video vi piacerà e volete che noi puliamo altra cacca che schifo fateselo sapere qua sotto in un commentino e lasciando un mi piace perché per oggi da noi è tutto e ci vediamo presto in un nuovo fantastico video ciao ciao